Si è svolto lo scorso sabato 19 novembre l'appuntamento del corso di aggiornamento dal titolo L'ematologia incontra il territorio, condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici. Presente anche la neoassessora regionale alla salute, la nissena Giovanna Volo, che ha inaugurato l'apertura dei lavori della giornata di formazione nella sede di Caltanissetta. Il mio interesse fondamentale e il mio obiettivo principale, condiviso devo dire dal Presidente della Regione, è quello di creare delle integrazioni forti che ci possano portare ad uscire dalle enormi difficoltà che in questo momento vengono registrate su alcune cose. Faccio degli esempi pratici, gli intasamenti del pronto soccorsi, la lungaggine dei tempi delle liste d'attesa e di conseguenza l'impossibilità a fare diagnostica in tempi accettabili, la cura dei soggetti con patologie croniche perché a causa del Covid è stato evidente come non sia più possibile fare accedere tutti in ambito ospedaliero. Il secondo appuntamento nel corso di aggiornamento inoltre ha ribadito ancora una volta l'importanza del rapporto di collaborazione fra lo specialista e il medico di medicina generale, così come racconta Maria Enza Mitra, direttore dell'unità operativa complessa di amatologia dell'ospedale Santeria di Caltanissetta. In ambito ematologico, perché questa è la nostra specialità, vuole che ci sia un rapporto diretto con i medici di base che rappresentano proprio il primo punto di riferimento per tutti i pazienti. È fondamentale che ci sia una dialettica sempre aperta, pronta e che si rinnovi in base a quelle che sono le evoluzioni, che la scienza, la nuova medicina di precisione e soprattutto le innovazioni terapeutiche sempre più mirate verso una terapia che è sempre di più domiciliare, in quanto le nuove terapie ormai si fanno quasi tutte in regime di outpatients. Una visione condivisa anche dai medici di medicina generale, rappresentati dalla dottoressa Anna Santamaria. Il rapporto tra medico di medicina generale e collega specialista rappresenta un punto fondamentale per la tutela della salute del paziente perché soltanto in una sinergia attiva tutto questo può avvenire e l'obiettivo si può raggiungere e devo dire che tutto questo e questa sinergia che è nata anche durante il periodo della pandemia fino a oggi e si è rafforzata ci ha consentito di avere questo obiettivo. Una prima parte del corso è stata dedicata alla presentazione di casi clinici per approfondire l'aspetto dell'iter diagnostico-terapeutico delle diverse forme di leucemia, trattate dal dirigente medico dell'unità di ammatologia dell'ASPR in Sena, Pamela Murgano. Oggi è stato anche un momento di incontro con i medici del territorio, un momento in cui abbiamo ricordato come il Covid ci ha resi un fronte comune nell'affrontare non solo la pandemia ma a non fare fermare la diagnosi e il trattamento in ambito ammatologico. Presente anche il presidente nazionale dell'Aile Giuseppe Toro che ha sottolineato l'importanza del volontariato. Oggi in questa importante iniziativa che si è svolta a Caltanissetta sono stati affrontati i grandi passi avanti fatti dall'ematologia in questi anni. Un tempo di leucemia si moriva, la sua diagnosi era una sorta di condanna a morte, oggi almeno il 70-80% dei malati trovano risposte terapeutiche, non solo ma un grande numero di malati si cronicizza quindi con aspettative di vita quasi simili a quella dei pazienti normali. Il volontariato in questo è vicino, supporta le parti di ematologia ma soprattutto i pazienti. È stato il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni Di Polito, a concludere lavori. Quelle del 22 ottobre e del 19 novembre, dice, sono state due giornate che ci hanno permesso di fare incontrare i medici di medicina generale e gli specialisti con la certezza che il dialogo tra le loro professionalità rimanga sempre aperto e costruttivo per il bene dei pazienti.